ok allora buongiorno a tutti nuovamente l'obiettivo di oggi è quello di capire assieme come possiamo utilizzare le classi e le interfacce che fanno parte del collection framework per andare a costruire dei programmi che siano più semplici più facilmente comprensibili rispetto a quelli che utilizzano dei costrutti di base quali ad esempio gli array quello che succede in pratica è che gli array che abbiamo visto finora come il principale strumento per fare un contenitore di oggetti in pratica spesso sono sostituiti da oggetti un po più articolati che sono quelli che fanno parte del collection framework partiamo da un esempio che abbiamo già visto quello del laboratorio del primo laboratorio di university in cui abbiamo diversi contenitori se io vado a prendere la classe university all'interno della classe university abbiamo quelli che sono scusate che sistemo le finestre in modo che si veda tutto bene allora quelli che sono un insieme di studenti quelli che sono un insieme di corsi qui li abbiamo realizzati tramite un array di studenti di corsi abbiamo utilizzato un indice che ci permetteva di andare a capire dove andare a posizionare il prossimo elemento ovviamente questo richiede che all'interno del nostro codice noi abbiamo per l'appunto questo indice e tutto il codice aggiuntivo che serve per andare a gestirlo tenete presente che in questo caso specifico non abbiamo considerato il caso in cui il numero di studenti superi quello che è il numero massimo ok una delle assunzioni che avevamo fatto è ci sono un numero massimo di studenti che erano definiti da questa costante qua su quindi numero massimo di studenti 1000 ovviamente questo tipo di assunzioni che nel momento in cui abbiamo a che fare con degli array sono fondamentali risultano un po limitanti perché innanzitutto andando a creare l'array inizialmente lo creo di 1000 elementi quindi sostanzialmente spreco dello spazio quindi in termini di efficienza il nostro programma non è il massimo secondo punto di vista secondo aspetto importante è il fatto che quando ho raggiunto quella dimensione massima non mi ci sta più nulla quindi o mediamente ho un sacco di spazio sprecato oppure un limite a quello che può essere la quantità di elementi che ci stanno all'interno del nostro contenitore questa è sostanzialmente la motivazione che ha portato a definire una serie di classi quelle del collection framework che permettono di ovviare a tutte queste limitazioni attenzione collection framework è specifico di java ma esistono in tanti altri linguaggi insiemi di classi e interfacce analoghi che fanno operazioni tutto sommato simili quindi una volta che voi sapete utilizzare in maniera corretta collection framework potete trasportare queste conoscenze anche in altri linguaggi a questo punto andiamo a vedere come potremmo partendo ad esempio dagli studenti andare a sostituire un array con un altro tipo di elemento che è una collezione quindi invece di andare a utilizzare un array di studenti andiamo a mettere un private collection student invece di chiamarlo include per evitare confusioni lo chiamo studenti all'italiana e vado a eliminare questi due collection come tutte le altre classi deve essere importato a questo punto andiamo nel costruttore dove invece di andare a creare un array delle dimensioni richieste vado a dire che studenti è uguale a new collection è un'interfaccia quindi io non posso istanziare un'interfaccia devo andare a scegliere quella che è una classe che implementa quell'interfaccia quelle più comunemente utilizzate sono due link ed list e array list che hanno alcune differenze in termini di come sono implementate lo vedremo in una prossima lezione indicativamente in termini di funzionalità ovvero la capacità di contenere degli elementi link ed list e array list sono equivalenti cambia quella che poi l'efficienza con cui vengono eseguite alcune operazioni di aggiunta e di ricerca diciamo che andiamo a creare una linked list e link ed list ovviamente anch'essa deve essere importata e quindi questo mi dà la possibilità di andare a creare la mia collezione vedete che in termini di codice ho risparmiato una riga qua quindi sostanzialmente non ho messo l'indice che mi permette di andare a selezionare un elemento perché perché dentro l'oggetto di linked list è già contenuto tutto e quindi qui in ogni caso ho dovuto creare l'oggetto contenitore quindi come creavo l'array qui devo creare l'oggetto linked list esattamente come per gli array posso fare un'inizializzazione in questa posizione all'interno del nostro costruttore oppure in linea qua su domanda non dobbiamo mettere minore studente maggiore nella linked list allora nella linked list io qui ho utilizzato quello che si chiama il diamond operator ok quindi il minore maggiore si chiama il diamond operator una scrittura alternativa è quella in cui io qui vado esplicitamente a mettere studente il diamond operator che cosa fa chiede al compilatore di automaticamente andare a inferire qual è il tipo quindi le due scritture che vediamo qui sono sostanzialmente equivalenti il diamond operator fa la stessa cosa quindi suggerisce al compilatore di provare a capire qual è il tipo e automaticamente lo inserisce quindi non è esattamente necessario mettere il tipo se possiamo utilizzare il diamond operator il tutto funziona perché la dichiarazione che vedete qua su in cima quindi collection di studenti quella invece dichiara chiaramente che dentro la collezione studenti gli elementi sono di tipo student piccola osservazione il diamond operator è stato introdotto in java 7 mentre prima era comunque sempre necessario mettere esplicitamente il tipo ovviamente in buona parte dei casi il diamond operator è assolutamente in grado di inferire il tipo quindi scriviamo solitamente la notazione più compatta a questo punto vediamo come possiamo andare a gestire l'inserimento degli elementi all'interno della collezione e poi l'accesso agli elementi stessi qui quando vado a prendere un nuovo studente devo andare a creare gli elementi e quindi ho bisogno di definire una matricola quindi alla fin fine forse la nostra matricola quassù potremmo anche tenerla perché così abbiamo un contatore che ci permette di mantenere la matricola e poi dobbiamo andare ad aggiungere l'elemento all'interno della nostra collezione ora è ovvio che non avendo più l'array devo trovare il modo di inserire gli elementi all'interno della nostra lista o collezione più in generale quindi quello che devo fare è andare a prendere studenti e chiamare il metodo add a cui aggiungo lo studente vedete che qui non devo fare nessuna operazione di aritmetica di indici sapendo che parte da un certo indice eccetera aggiungo l'elemento alla mia collezione e basta a questo punto cambierà ovviamente il metodo find student che abbiamo qua in cui devo andare a cercare una studente facciamo i soliti controlli questi che abbiamo incontrato l'altra volta relativamente alle eccezioni a questo punto quello che facevo qua ovvero andare a cercare lo studente partendo dal suo indice e recuperandolo all'interno della collezione non lo posso più fare quello che posso fare è andare a nel caso più semplice fare un ciclo for student s in studenti non abbiamo il metodo get id ma lo possiamo chiedere è uguale a id facciamo return di s a questo punto è ovvio che s non sarà trovato e quindi se arrivo alla fine del mio loop senza aver trovato lo studente lo elimino vado a creare il metodo get id all'interno di studente return is.id ora rispetto alla soluzione con il nostro array in cui posso andare ad accedere direttamente alla posizione vedete che questa è un po' meno vantaggiosa perché? perché sostanzialmente ho utilizzato un ciclo e il ciclo di per sé è abbastanza inefficiente perché ho utilizzato un ciclo? ho utilizzato un ciclo perché qua su in cima quando ho dichiarato il mio oggetto studenti che è quello che contiene gli studenti ho detto che questa è una collezione se ricordate nell'ultima lezione vi spiegavo che la collezione rappresenta un contenitore elementare base in cui posso aggiungere gli elementi e che posso andare a iterare e di cui posso sapere ovviamente la dimensione se io voglio qualcosa di un po' più articolato devo andare a utilizzare dei contenitori un po' più specializzati ad esempio se mi interessa andare a conoscere la posizione di un certo elemento posso andare a utilizzare una lista list è un'interfaccia anch'essa che si trova nel package del java.util e quindi devo importarlo attenzione quando importate list perché normalmente vi vengono dati una serie di alternative la list che a noi interessa è quella che si trova nel package java.util qui tra le opzioni ce n'è anche una che è java.awt che non c'entra nulla con le liste come contenitori di oggetti ma rappresenta la lista come elemento grafico di un'interfaccia ok? quindi si ha una qualche parentela in termini di significato ma non è la stessa cosa quindi importiamo la lista allora domanda il foro implementa un ciclo sulla collezione andiamo più giù questo è esattamente un ciclo sulla nostra collezione va a scandire tutti gli oggetti studente che stanno nella nostra collezione ok? e dobbiamo fare questo se abbiamo a che fare con una collection perché all'interno delle collection non abbiamo la possibilità di andare ad accedere agli elementi mentre invece l'interfaccia list è un'interfaccia un po' più complicata e quindi ci permette di andare a definire quella che è la posizione quindi se invece vado a utilizzare una lista allora fatemi mettere tutto questo codice qui quindi utilizzando una collection se utilizzo una list il codice che posso scrivere è questo che è sostanzialmente analogo a fatemi recuperare il codice che avevamo scritto per l'array a quello degli array domanda non siamo obbligati a utilizzare i metodi di iterable possiamo utilizzare direttamente il for each esattamente sì il fatto che sia collection sia un'interfaccia che estende iterable automaticamente ci consente di utilizzare il costrutto for each in effetti utilizzando il costrutto for each è raro che vengano usati esplicitamente gli iteratori domanda la lista investigamente non implementa comunque un ciclo non so esattamente cosa intendi nel senso che implementa un ciclo l'unica alternativa è che quello che posso fare è allora per la attenzione un conto è la collezione quindi io ho questo codice qua l'ho scritto per un oggetto di tipo collection e quindi non esiste un concetto di scansione se non quello che c'è qua nel costrutto for each oppure utilizzando un iteratore esplicitamente cosa che solitamente non si fa l'altro modo di fare questa cosa è andare a utilizzare un studenti punto for each e poi qui andare a mettere una action però non va bene tanto in questo contesto perché a me in realtà non interessa fare un'operazione su tutti ma andarli a scandire e andare a vedere quello che effettivamente corrisponde quindi la collezione l'interfaccia collection in sé non ha un ciclo che fa una ricerca posso semplicemente andare a utilizzare qui in maniera implicita il fatto che questo è un oggetto iterabile se invece utilizzo una classe che implementa liste e quindi utilizzo l'interfaccia liste posso utilizzare una struttura che è sostanzialmente analoga a quella della nostra del nostro array e quindi posso utilizzare studenti punto get id meno initial id ovviamente devo commentare quello che sta sopra quindi vedete che a questo punto questa variante con la con la lista quindi se utilizzo un oggetto di tipo list qui student questo è quello che posso scrivere quindi mi evito il ciclo domanda la differenza tra linked list e liste è che list è una interfaccia e quindi non ha nessuna implementazione mentre invece linked list è una classe che implementa l'interfaccia liste quindi se io decido di avere di utilizzare una lista quindi l'interfaccia liste dopodiché posso andare a scegliere che classe utilizzare che la implementa linked liste è una possibilità array liste è l'altra possibilità che ci è fornita dal nostro framework delle collezioni quindi un conto è l'interfaccia ovvero l'insieme delle funzionalità che vogliamo utilizzare noi come utenti l'altro è la classe ovvero come è effettivamente implementata l'interfaccia quindi come una lista linkata di elementi oppure come un array che si ridimensiona quindi avendo modificato studenti in list io quando vado a creare l'oggetto posso creare una linked list oppure posso creare una array list le funzionalità sono sostanzialmente le stesse perché entrambe le classi implementano l'interfaccia liste quello che cambia quando scelgo una collection invece di una list è che quando scelgo lo vediamo qua quando scelgo una lista ho a disposizione il metodo get che mi permette di accedere tramite un indice se utilizzo invece una collezione non ho il metodo get e quindi non posso accedere tramite un indice attenzione che questo trucchetto dell'utilizzare l'indice funziona se io ho un indice di partenza e ho un modo tutto sommato semplice di andare a calcolare quello che è la posizione all'interno della lista o dell'array di un elemento quindi è una soluzione che funziona benissimo in questo caso ma non in generale immaginate di avere invece di una matricola numerica un codice alfanumerico ad esempio il codice fiscale e a questo punto non posso più utilizzare una differenza tra codici fiscali quindi terza opzione ti ve le riscrivo così questo lo rinomino in lista studenti e vado a mettere collection e questo lo chiamo collezione studenti a questo punto collezione studenti in modo che vi resti tutto il codice di entrambe le soluzioni e questa è l'alternativa domanda come vengono memorizzati gli oggetti in collezioni allora attenzione collection esattamente come list è un'interfaccia quindi io posso andare a scegliere che tipo di classe andare a utilizzare nello specifico qui ho utilizzato una linked list avrei potuto utilizzare una array list una cosa è la scelta del tipo di contenitore una collezione con caratteristiche di base una lista con le caratteristiche di collection più l'accesso tramite indice oppure altri tipi di dati strutture dati un altro è la scelta del tipo di classe che lo implementa la scelta del tipo di classe è dettata di solito esclusivamente da caratteristiche di tipo implementativo e quindi da quelle che sono le prestazioni della nostra classe specifica allora la classe linked list non implementa comunque l'interfaccia liste allora vi recupero la slide allora queste sono le classi e le interfacce del framework collezioni quindi se andiamo a prendere la nostra linked list linked list implementa lista che a sua volta estende collection quindi linked list ovviamente implementa sia list che collection perché collection è la super interfaccia di list quindi se decido di utilizzare una collection posso utilizzare una qualunque di queste classi perché tutte indirettamente implementano collection se voglio utilizzare una lista posso utilizzare o array list o linked list quindi la scelta dipende da cosa voglio fare con quel contenitore se io voglio poter semplicemente andare a scandire gli elementi posso utilizzare una semplice collezione se a me interessa andare ad accedere agli elementi tramite un indice quindi data la loro posizione posso utilizzare una lista la lista sostanzialmente ci dà le funzionalità analoghe a quelle che ci dava un array col grosso vantaggio che la dimensione non è data in partenza e quindi man mano che aggiungo elementi la lista si allunga e quindi fa spazio per tutti gli elementi necessari terzo tipo di struttura che io posso utilizzare è quella che è una mappa quindi allora domanda nella pratica ci sono vantaggi di non utilizzare semplicemente l'interfaccia collection oppure ha senso ragionare utilizzando l'interfaccia più in basso allora torniamo su questo argomento poi più avanti però l'idea è se io qui dichiaro una collezione in pratica poi nel costruttore posso andare a assegnare una qualunque di quelle classi che abbiamo visto prima quindi ve lo rimostro di nuovo se io ho un riferimento di tipo collection quel riferimento può puntare a una qualunque di queste classi quindi se nel mio codice serve esclusivamente andare a inserire degli elementi quindi quindi il metodo add scandire gli elementi quindi utilizzando implicitamente literatori utilizzando collection utilizzando un riferimento di tipo collection mi dà la libertà successivamente di andare a scegliere uno qualunque di queste classi che le implementano se invece vado a scegliere un riferimento di tipo liste che ovviamente ha le stesse funzionalità della collection perché è una sottointerfaccia nel momento in cui devo andare a scegliere la classe che lo implementa o eventualmente cambiarla la mia libertà si limita a due classi specifiche quindi tendenzialmente io utilizzando interfacce più generali quindi quelle che stanno in alto più scelta tra le varie classi che lo implementano se scelgo una interfaccia più specifica questo mi dà ovviamente più funzionalità ma quelle funzionalità ovviamente sono implementate da un numero più risteretto di classi questo è il ragionamento che in realtà dovete fare poi una volta che voi avete capito quali sono le vostre funzionalità quindi quelle di cui avete bisogno vi basta un'iterazione avete bisogno dell'accesso tramite un indice allora vi definite la vostra interfaccia dopo ma ne parleremo poi in una prossima lezione quello che dovete fare è andare a scegliere la classe che la implementa quindi che operazioni dovete fare sostanzialmente vi guida nella scelta di una particolare interfaccia piuttosto che un'altra dopodiché andrete a scegliere quale classe utilizzare nel caso specifico qui abbiamo due casi diversi abbiamo una array list e una linked list le funzionalità che forniscono sono sostanzialmente analoghe perché entrambi implementano l'interfaccia list la terza tipologia di interfacce vi sto parlando delle interfacce principali poi come avete visto ce ne sono tante altre e quella che si chiama una map le mappe sostanzialmente ci permettono di associare una chiave con un valore e poi successivamente data la chiave andare a recuperare il valore a cui corrisponde quindi posso utilizzare ad esempio integer che è il nostro identificatore virgola student e quindi mappa studenti map ovviamente è anch'esso un'interfaccia che devo importare mappa studenti uguale new qui le due alternative che solitamente utilizziamo sono hash map e tree map di nuovo non entriamo in questo momento nel dettaglio di come sono implementati ne parleremo poi nella prossima lezione hash map mi permette di andare a associare la chiave quindi l'identificatore dello studente all'oggetto studente stesso hash map come tutte le altre deve essere importata a questo punto se abbiamo una mappa come facciamo a inserire gli elementi e sostanzialmente invece di utilizzare il metodo add che è quello di base quando vogliamo utilizzare una collezione o una lista quando ho una mappa quello che posso fare è fare mappa studenti punto put e a questo punto metto come vedete i due elementi la chiave ovvero l'informazione che mi serve per recuperare il dato quindi nel nostro caso specifico il next id e poi il valore ovvero l'oggetto a cui voglio accedere dato l'identificatore chiave che nel nostro caso specifico è l'oggetto studente quindi passo la chiave e il valore e li metto dentro a questo punto per andare a recuperare lo studente data la sua chiave utilizzando una mappa quindi mappa integer student quello che devo fare è semplicemente andare a dire student s uguale mappa studenti punto get e il nostro identificatore utilizzando una mappa io non ho più bisogno di andare a fare quel giochino dell'identificatore meno initial id eccetera perché nella mappa è memorizzato direttamente l'identificatore e il valore non uso il la posizione zero che in realtà corrisponde all'identificatore iniziale eccetera accedo direttamente con quel meccanismo e quindi una volta che ho avuto accesso a quell'oggetto poi faccio tutto quello che serve quindi ad esempio vado a verificare se il valore che ho ottenuto è nullo quindi effettivamente era presente oppure no domanda sì allora la mappa sarebbe uguale alla tabella di hash in C in realtà facendo riferimento alle strutture dati che chi di voi ha seguito i corsi di algoritmi di programmazione avanzata ha visto la mappa in realtà è un tipo di dato molto più astratto rispetto alle hash map la mappa è un qualcosa che ripeto permette di associare una chiave a un valore poi nel dettaglio come lo faccia dipende se utilizzo un hash map allora sì la struttura dati è esattamente quella di una tabella di hash però non è l'unico meccanismo che posso utilizzare una mappa potrebbe utilizzare anche altri meccanismi più o meno sofisticati per andare a memorizzare chiave e valore e poi andare a recuperare direttamente attenzione qual è il vantaggio di utilizzare una mappa è che tramite un semplice metodo get io sono in grado data la chiave di recuperare il valore non ho necessità di fare operazioni di somme sottrazioni come nel caso del reo della lista e non devo neanche fare un ciclo su tutti gli elementi per trovarlo chiamo il metodo get e immediatamente ho il valore che stavo cercando il grosso vantaggio della mappa e quindi delle classi che la implementano è che la ricerca quindi questo metodo get è estremamente efficiente quindi le due classi principali che implementano l'interfaccia map hash map e tree map utilizzano come strutture date al loro interno delle tabelle di hash oppure degli alberi di ricerca che quindi hanno una complessità molto ridotta però ripeto sulla complessità di linked list rispetto ad array list hash map rispetto a tree map ci torniamo successivamente prima di prima di tutto il primo passo che dobbiamo fare è capire che struttura dati utilizzare per cui se a noi basta andare a scandire gli elementi va bene una collezione se dobbiamo utilizzare un indice dobbiamo utilizzare una lista se dobbiamo fare una ricerca per chiave ecco che l'utilizzo di una mappa è la soluzione ideale perché? perché non devo fare nessuna operazione metto la coppia chiave valore e poi nel momento in cui ne ho bisogno passo la chiave e ottengo il valore un aspetto importante da ricordare nel momento in cui noi utilizziamo delle collezioni è sostanzialmente che le collezioni memorizzano non gli oggetti in sé ma bensì memorizzano dei riferimenti esattamente come per gli array quindi il fatto che io abbia più contenitori liste mappe collection eccetera che contengono gli stessi elementi in realtà non vuol dire che gli stessi elementi vengono duplicati più volte significa semplicemente che più collezioni hanno riferimenti agli stessi elementi complessivamente nel caso che stiamo osservando visto che la ricerca di un di uno studente data la sua matricola è esattamente il caso d'uso specifico per le mappe la soluzione ideale in questo caso è quella di andare a utilizzare una mappa quindi è quest'ultima soluzione che abbiamo visto anche perché la soluzione opposta quella che abbiamo visto utilizzando la collezione richiede richiede di andare a scandire tutti gli elementi quindi in pratica in un caso abbiamo queste cinque righe che vanno a cercare l'elemento 5 righe rispetto a una riga ricordatevi che normalmente quello che succede nel codice nella programmazione è che il numero di errori è proporzionale al numero di righe di codice quindi più righe di codice scrivete più errori che commettete almeno potenzialmente quindi utilizzare del codice che è più semplice più compatto solitamente riduce il numero di errori quindi ogni volta che voi avete la necessità di fare una ricerca per chiave la mappa è la risposta ideale per cui la stessa cosa che abbiamo fatto per lo studente lo possiamo anche andare a fare per i corsi quindi invece di andare a utilizzare l'array possiamo mettere un private mappa integer virgola corso corsi uguale new hash map uso anche qui il diamond operator quindi non ho necessità di andare a ripetere questa coppia di parametri di qua perché il compilatore è in grado di inferirlo allora domanda le mappe hanno un costo più elevato da un punto di vista della memoria rispetto a una lista non necessariamente in termini di memorizzazione devo andare a mettere qualcosetto in più ma tendenzialmente non occupano molta memoria in più e poi dipende molto da quale variante di lista utilizzo se utilizzo una realist o una linked list e da quale variante di mappa utilizzo in generale come considerazione generale ricordatevi che tutte le volte che voi andate a chiamare una concatenazione tra due stringhe state sprecando della memoria perché andate a creare un nuovo oggetto e state buttando via i due oggetti che avete concatenato quindi l'uso della memoria all'interno di Java è molto più diciamo lasco rispetto a quello che si fa ad esempio in C dove è bene tenere traccia di tutta la memoria che stiamo utilizzando qui la memoria non la dobbiamo tenere d'occhio noi ma la tiene d'occhio la Java Virtual Machine che farà operazioni di cancellazione della memoria per cui il fatto che una mappa occupi leggermente più memoria rispetto a una lista è un discorso tutto sommato magari corretto ma poco rilevante quindi per quanto riguarda i corsi torniamo al nostro al nostro mappa con integer e corse domanda perché il primo tipo deve essere integer deve essere integer perché quando noi andiamo a mettere scusate mi vado sotto quando aggiungo gli elementi quando faccio un roll la matricola è un numero intero e quindi devo utilizzare integer attenzione la tentazione che potrebbe venirvi è quella di scrivere qua non integer ma bensì int il punto è che i tipi generici per come sono implementati in in java non permettono di mettere come parametro di un tipo generico un tipo primitivo dobbiamo per forza andare a mettere i tipi wrapper ovvero una classe poi sì è vero che funziona l'autoboxing però l'autoboxing funziona nel momento in cui io aggiungo un elemento oppure lo estraggo in cui c'è l'auto unboxing ma nella dichiarazione io proprio per la sintassi java dei tipi generici devo andare a mettere sempre un nome di una classe e quindi dato int che è quello che ci verrebbe in mente di mettere immediatamente devo ricordarmi che in realtà devo trasformarlo in integer infatti il compilatore ci dice syntax error insert dimensions quindi il parametro al posto di un tipo primitivo perché proprio il tipo primitivo lì non ci può stare e quindi devo andare a mettere integer per forza quindi questo è un altro aspetto diciamo minimale a cui fare attenzione ricordiamoci che tutte le volte che noi utilizziamo le collezioni abbiamo la necessità di utilizzare dei tipi che sono non primitivi per cui sono classi wrap questo ci comporta ovviamente operazioni di boxing e un unboxing e quindi in ipotesi di valutazione dell'efficienza questo potrebbe avere dei limiti ok? quindi boxing e un unboxing funzionano ad esempio qua quando vado a mettere student.nextid qui questo nextid automaticamente è boxed in un integer a questo punto abbiamo messo la la mappa per gli studenti andiamo a cancellare questa che era l'array che avevamo prima la ricerca dello studente va bene quindi quando abbiamo i corsi invece di andare a fare il calcolo all'interno del nostro array vado semplicemente a mettere corsi punto put la chiave che è il next code e il valore che è il nostro oggetto corso per cui qui invece di utilizzare il metodo find course quello che posso fare è andare semplicemente a scrivere course c uguale a corsi punto get code e quindi questo find course non ci serve in generale tutte le volte che noi abbiamo la necessità di accedere a un elemento all'interno di una mappa quando l'elemento che stiamo cercando o meglio la chiave che stiamo cercando non è presente nella mappa il metodo restituisce null il metodo get restituisce null per cui se è possibile che l'elemento che stiamo cercando non sia presente è buona norma ad esempio fare un if corsi punto contents i che è un metodo che va a verificare se quella particolare chiave è presente all'interno della nostra mappa e in questo caso procedere con quello che è l'effettiva ricerca e poi la valutazione in questo caso semplicemente la chiamata del metodo to string dell'oggetto che stiamo cercando in alternativa posso fare quello che voglio ad esempio qui non l'avevo messo ma potrei mettere un throws university exception e qui throw new university exception cannot find course with code più code ok se cercate di andare a inserire all'interno di una mappa un codice che già esiste il risultato è che andate a sovrascrivere il valore ricordiamoci che in una mappa le chiavi sono uniche altrimenti questa chiamata al metodo get non potrebbe darmi un risultato ok potrebbe darmi più di uno in realtà le chiavi devono essere uniche se cerco di inserire due volte la stessa chiave all'interno di una mappa la seconda volta sostanzialmente vado a sovrascrivere il valore precedente perché la chiave è la stessa quindi attenzione quando utilizzate le mappe a essere sicuri che le chiavi che inserite siano effettivamente uniche se non lo sono dovrete utilizzare qualche altra tecnica ok a questo punto una volta che abbiamo modificato il nostro corso andiamo a modificarlo anche qui quando faccio una ricerca quindi course c uguale a corsi.get di corsi code e stessa cosa anche qua sotto quando andiamo a elencare i partecipanti per cui vedete che con la semplicità delle mappe è sufficiente utilizzare il metodo get per andare a recuperare l'oggetto ovviamente in altri casi le mappe non sono utili per cui se andiamo dentro la classe studente qui quando ho l'elenco dei corsi a cui è iscritto lo studente allora qui vale il discorso di prima usando un array io devo avere una dimensione massima l'alternativa è utilizzare una lista o una collezione che mi permette di andare a prendere tutti gli elementi ok quindi se ho una collection di corsi 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 uguale new facciamo linked list ovviamente vado a importare sia collection che linked list scusate ho scritto male ho scritto linked invece di linked quindi vado a importarla a questo punto qui vi ricordate che abbiamo utilizzato un'alternativa invece di andare a recuperare utilizzare l'indice andavamo a cercare la prima posizione libera qui semplicemente corsi punto add c questo sostanzialmente non cambia nulla scusate ho sbagliato for for course c in corsi aperta graffa per cui esattamente come potevo andare a scandire gli elementi di una array posso andare a scandire gli elementi di una collezione di una lista qui non avevamo messo nessun controllo però immaginiamo di dover andare a controllare di non poterci iscrivere più volte a uno stesso corso quindi qui prima di andare a verificare prima di andare ad aggiungere il corso che è stato passato a quello a quelli a cui il nostro studente è iscritto possiamo andare a fare un if corsi punto contents c in questo caso sostanzialmente lo studente è già iscritto se quindi lo studente è già iscritto quindi la nostra collezione di corsi contiene l'oggetto c allora systemair println doppia iscrizione oppure volendo utilizzare le eccezioni le eccezioni university exception throw new university exception doppia iscrizione dello studente dello studente più di al corso uc punto get code vado vado a raggiungere un metodo get code all'interno della classe corso allora attenzione a quello che ho fatto qui io ho aggiunto una eccezione per quanto riguarda i laboratori e gli esami non aggiungete eccezioni che non siano già esplicitamente richieste perché se un test che è stato scritto per del codice che non lancia eccezioni viene lanciato su del codice che invece lancia le eccezioni c'è un errore e quindi il test semplicemente non può essere eseguito non passa quindi per l'esame non aggiungete eccezioni quando dovete andare a programmare voi se non avete un'interfaccia già pronta e definita in cui ci sono o meno le eccezioni potete ovviamente aggiungerle come preferite resta il fatto che il codice che vi viene dato la classe o l'interfaccia che vi viene data quelle sono un contratto tra voi e chi andrà a valutare il vostro codice in un contesto lavorativo se voi avete interfaccia e che qualcun altro dovrà utilizzare voi non potete andare a modificare l'interfaccia se prima non vi siete messi d'accordo con chi dovrà utilizzarla quindi le interfacce sono delle specie di contratti le interfacce oppure le classi con una serie di metodi sono una forma di contratto tra chi scrive il codice e chi poi andrà a utilizzarlo e a valutarlo quindi attenzione ad aggiungere eccezioni modificare il tipo di parametri o valori di ritorno perché questo potrebbe rompere il contratto mentre ci siamo vi faccio notare che uno degli errori più comuni soprattutto quando si iniziano a gestire le eccezioni è quello di dimenticarsi di mettere new se io metto new il compilatore mi dà un errore del tipo il metodo university exception non è definito questo messaggio d'errore è un po' ambiguo nel senso che in realtà non c'è un metodo university exception quella è una classe tuttavia se voi vi mettete nei panni del compilatore il compilatore vede un identificatore seguito dalle tonde e questo per lui è una chiamata o un metodo ok quindi il messaggio d'errore potrebbe essere ambiguo però se andiamo a vedere i suggerimenti che Eclipse ci offre il primo suggerimento è insert new keyword quindi aggiungere la parola chiave new risolve il problema ed è quello che effettivamente era già presente prima quindi attenzione se dimenticate la new al messaggio d'errore che potrebbe non essere immediatamente chiaro ok quindi nel caso specifico della collezione di corsi che sono seguiti da uno studente vedete che abbiamo utilizzato con molta semplicità quella che è una collezione anche perché le uniche operazioni che dobbiamo fare sono aggiungere gli elementi e quindi utilizziamo il metodo add e andare a scandire gli elementi se volete visto che l'abbiamo deciso adesso ma potrebbe essere uno dei requisiti aggiuntivi del laboratorio non è possibile scrivere lo stesso studente più volte allo stesso corso invece di utilizzare una collezione come abbiamo fatto qua su in cima avremmo potuto invece della collezione andare a utilizzare un set qual è il vantaggio di utilizzare un set è che automaticamente dentro quella collezione ricordiamoci che scusate qui set è una sotto interfaccia di collection ok quindi è una collezione con in più la caratteristica di avere gli elementi al suo interno che non possono essere duplicati quindi se cerco di aggiungere due volte lo stesso elemento sostanzialmente ce ne avrò solo uno la seconda aggiunta non mi dà nessun risultato quindi invece di utilizzare collection avrei potuto utilizzare in maniera più corretta un set ora la domanda è ma se tutto funziona benissimo con collection perché andare a utilizzare un set sostanzialmente fa un po' riferimento al discorso che facevamo prima su utilizzare collection invece di list l'idea è più io vado a circoscrivere quello che devo fare nel termine di un programma più il mio programma automaticamente sarà corretto e il compilatore mi darà una mano a garantire che ciò sia corretto quindi se io so che all'interno di quella collezione in realtà non possono esistere duplicati mettendo un set invece di una collezione automaticamente mi aiuta automaticamente perché quella è una caratteristica degli insemi a garantire che quelle quella collezione non contenga effettivamente alcun duplicato quindi invece di andare a dire che corsi è uguale a new linked list potete andare a dire che corsi è uguale a new hash set che ovviamente deve essere importato a questo punto qui sotto add non cambia perché in realtà l'aggiunta a un set si fa col metodo add che in realtà era definito nella classe di base collection la iterazione di nuovo non cambia perché in effetti se andiamo a vedere nella nostra interfaccia qui set in realtà implementa da collection il quale a sua volta eccocelo qua set implementa da collection il quale a sua volta extend iterable quindi l'iterazione la faccio sempre e comunque allo stesso modo qualunque sia il mio contesto qual è il vantaggio? il vantaggio è che se io mi dimentico di fare questo controllo qua sul contenimento automaticamente comunque dentro il mio insieme ci sarà una volta sola ogni corso quindi volendo io posso evitare quel controllo perché tanto nel set non ci possono essere elementi duplicati torno un attimo in university immaginiamo immaginiamo di voler andare a elencare tutti gli studenti iscritti o comunque tutti i corsi presenti all'interno del nostro ateneo lo aggiungo come un nuovo metodo public string list all students che deve andare a restituirmi una stringa che contiene tutti gli studenti allora potremmo andare a mettere string lista studenti uguale stringa vuota e poi devo andare a fare un ciclo for studente in studenti lista studenti più uguale a scusate studenti s s punto to string più a capo e poi return lista studenti anzi invece di lista chiamiamolo elenco così vediamo ambiguità col nome della della classe list ora studenti che cos'è? studenti è una mappa mappa studenti mappa studenti mappa studenti è per l'appunto una mappa quindi quando vado a fare la scansione la scansione la devo fare la scansione la devo fare sulle chiavi, sui valori, sulle coppie chiave valore ecco essendoci questa ambiguità la classe mappa è stato deciso di non farla derivare dalla classe iterable per cui io non posso utilizzare una mappa all'interno di una scansione almeno non direttamente perché per l'appunto c'è l'ambiguità sul fatto che io stia iterando sulle chiavi, sui valori oppure sulle coppie quello che voglio fare in questo caso è andare a fare un'iterazione su tutti gli studenti gli studenti se andiamo a prendere la mappa che è quella che è qua su in cima la mappa studenti prevede di avere come chiave le matricole che sono degli interi e come valori gli studenti di classe student per cui quello che voglio fare in quel caso specifico è andare a iterare su tutti gli studenti che cosa sono? gli studenti sono i valori memorizzati dentro la mia mappa quindi qui vado a utilizzare il metodo che si chiama values che è quello che mi permette di andare a recuperare una collezione al cui interno sono memorizzati tutti i valori ovvero gli studenti che abbiamo inserito nella nostra mappa quindi in questo caso io posso andare a scandire tutti i miei studenti e andare successivamente a stamparli a volte può essere necessario invece di andare a iterare su i valori della mappa a dover andare a iterare su quelle che sono le chiavi quindi potrei andare a fare un for integer id in mappa studenti punto keyset keyset è il metodo delle mappe che restituisce il set con tutte le chiavi vi faccio notare che qui il valore restituito è un set mentre invece per values è una collezione perché ovviamente le chiavi sono uniche e quindi il contenitore naturale in cui andare a memorizzare degli elementi che sono unici quindi non hanno duplicati è un set mentre invece per i valori non è detto che siano univoci quindi io potrei avere due chiavi che puntano allo stesso oggetto valore a questo punto potrei andare ad esempio a recuperare lo studente s uguale a mappa punto mappa studenti punto get id eccetera e fare tutto quello che mi serve sullo studente ok a questo punto un'altra considerazione molto pratica che di tanto in tanto vi verrà in mente quando dovete andare a definire quelle che sono le strutture che volete utilizzare per andare a memorizzare i vostri dati può succedere e quello che è successo nel caso degli studenti dei corsi che voi dobbiate andare a mettere un insieme di dati ad esempio i dati relativi allo studente piuttosto che i dati relativi a un corso all'interno di un oggetto domanda per accedere alla lista di metodi di queste collezioni esiste un metodo all'esame o si devono sapere a memoria all'esame avrete ammesso che sappiamo come verrà svolto l'esame diciamo che nell'esame classico voi avete la documentazione online dell'API e quindi potete utilizzare quelle resta il fatto che questi metodi fondamentali get e put keyset e values dovete saperli sono veramente pochi quelli fondamentali poi se ci sono tanti altri metodi molto più specifici beh quelli potete fare riferimento alla documentazione online allora andiamo a vedere la classe studente che abbiamo utilizzato nel nostro caso una domanda che potreste porvi quindi se pensate di utilizzare una mappa è ma la variabile id è necessario metterla all'interno della classe studente oppure visto che quando andiamo a iscrivere uno studente l'identificatore lo mettiamo come chiave possiamo tranquillamente lasciarlo da parte allora la domanda è legittima visto che comunque l'identificatore esiste nella nostra mappa come chiave potremmo evitare di mettere e di memorizzare quell'informazione all'interno dello studente il problema è che molto spesso è comodo avere a disposizione tutti i dati relativi allo studente anche su identificatore nel caso specifico dello studente quando io vado a utilizzare il metodo toString ho bisogno dell'identificatore e quindi l'identificatore mi serve se vado a stampare i valori è bene che una volta che ho l'oggetto studente io posso accedere a tutte le sue informazioni all'identificatore al nome e al cognome per cui in generale è buona norma quando voi andate a creare una classe che andrete a mettere tramite una chiave all'interno di una mappa includere all'interno della classe anche le informazioni che comunque sono presenti all'interno della mappa come chiavi questo perché in questo modo la classe studente è autocontenuta e quindi una volta che voi avete un riferimento a un oggetto studente avete tutte le informazioni necessarie anche la chiave che è stata utilizzata per memorizzarlo all'interno di una mappa quindi la raccomandazione è cercate di fare delle classi che rappresentano informazioni complete che con tutte le informazioni anche quelle che ipoteticamente potreste memorizzare separatamente come chiavi all'interno di una mappa altrimenti il rischio è che poi vi ritroviate in condizioni in cui vi servono tutte le informazioni relative a quell'oggetto e una parte invece di essere dentro l'oggetto sta all'interno della mappa come chiave quindi di nuovo raccomandazione se l'identificatore fa parte dello studente mettetelo dentro la classe anche se poi l'informazione è duplicata all'interno della mappa come chiave ok allora queste sono le caratteristiche principali delle nostre interfacce e classi che fanno parte del collection framework esistono poi una serie di usi particolari che vedremo man mano a questo punto ci sono domande o dubbi su quello che abbiamo visto finora se no vi propongo un altro esercizio scusate grazie a tutti Ok, se non ci sono domande allora sì, faccio il commit Un attimo che vi recupero Allora, vi metto dentro questo codice No, scusatemi, eccoci qua Ok, allora vi faccio il commit di questo progetto Lab University, la versione modificata che abbiamo visto sia questa lezione che quella precedente Ok, lezione del, oggi è il 27, 4 Prima parte Ok, a questo punto abbiamo il nostro primo progetto Ok, torno al primo progetto Vi creo una cartella Un package che chiamo Dati Allora Prima di fare questo faccio il commit di questo progetto Team Commit Allora Vi ho messo questo file lyrics Con dentro un po' di testi di alcune canzoni Alcune Una in italiano e una in inglese E quindi potete scegliere In realtà in inglese ce ne sono un paio Quindi potete scegliere quella che vi piace di più Quello che vi chiedo di fare Adesso Creo anche Un package apposito Collezioni New New Class Esercizio E quello di andare a scrivere Domanda No, non è un repository del lab È nel repository quello degli esercizi Quindi Sostanzialmente Si trova tutto Lo scrivo qua In HTTPS OP Polito IT Slash Svn Slash OP 2020 No, scusatemi In realtà questo è quello generale Scusate, mi sono dimenticato il pezzettino Relativo alla Al nostro corso Allora, questo è il repository Ve l'ho messo direttamente Allora, quello che dovete fare è fare un update del vostro progetto E dovreste trovare al suo interno Il package data Che contiene questo codice Se non lo trovate potete andare a quell'indirizzo Oppure Più specificatamente Adesso vi recupero l'indirizzo esatto Ah, scusate, non trovo No, non mi ha salvato il contenuto Allora, capisco perché Allora, purtroppo avendo trascinato il file Mi ha copiato il link Invece di andare a fare Di andare a mettere il file All'interno del progetto Ok 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 Scusate il problema Adesso a questo punto dovrebbe esserci Il file Ok Ok, quindi se fate un update Ora dovrebbe essere a posto Scusate, ho sbagliato Perché avendo trascinato il file Mi ha messo dentro il progetto il link Invece di copiare il file effettivo E quindi il risultato è che poi nel repository Non c'era il contenuto Allora Quello che vi chiedo di fare è Di creare Una mappa O meglio La mappa è la soluzione Vi metto invece il problema Elencare Tutte le parole di Un Testo Aggruppate per Lunghezza Numero di caratteri E poi In ordine Alfabetico Se voi fate un update Update Ok Allora Se non riuscite Il link A cui potete accedere È quello che vi ho messo adesso In chat Quindi Aprite quel documento Copiate tutto il contenuto E lo mettete dentro il file E quindi vi ritrovate Ritrovate il contenuto Che dovrebbe esserci esattamente Quindi Per fare questa operazione Come voi potete Per andarlo a stampare correttamente Utilizzare Un Comparatore Due Andare a costruire una struttura intermedia Che è fatta di Una mappa Quindi Utilizzare Una Mappa Che fa Corrispondere Alla parola Scusate Non alla parola Ma alla Lunghezza La lista Delle parole Con Quella Lunghezza Output Atteso Un Qualcosa Del tipo Lunghezza 3 Est Eccetera Eccetera Lunghezza 4 Alla Eccetera Il punto di partenza Qual è? Il punto di partenza È ovviamente Un insieme di parole Se volete Quello che potete fare È andare a prendere Le parole Da una delle Canzoni che abbiamo visto prima Uguale a Data Punto Lyrics Punto Alla Fiera dell'Est Punto Split E qui andiamo a mettere Lo spazio Meglio in realtà Visto che ci sono sia spazi Che a capo Spazio Backslash N Il tutto racchiuso tra quadri Che vuol dire Uno qualunque di questi caratteri A questo punto A partire da parole Provate a fare L'operazione Che vedete sopra Allora L'altro problema Che effettivamente Vedo adesso in chat È che ci sono Delle O accentate Quello che potete fare È Andare a impostare La codifica Allora Se lo copiate Da web È un conto Se invece Ce l'avete Fatto da Come import Quello che potete fare È andare a cliccare Sul Sul file Andare a vedere Properties E In basso In questa Rattella Se non avete UTF8 Che è la codifica Che è stata utilizzata Per scrivere il file Potete andare qui A indicare UTF8 Quindi qui Mettendo UTF8 Dovreste riuscire a vedere Le lettere accentate In maniera corretta Fatemi sapere Se tutto funziona Allora Non so Fatemi vedere L'output Allora Provo a creare Una nuova classe Fare anch'io Il copia e incolla Allora Allora Probabilmente Il contrario E quindi La codifica Non è UTF8 Ma è ISO 8859 No Probabilmente Nel copia e incolla C'è stato un pasticcio Ignorate il problema Utilizzate le lettere Usate Usate la Un'altra Un'altra Quindi Invece di utilizzare Questo Questo Ok Potete utilizzarne un altro Con ISO Probabilmente non funziona Neanche perché Il problema è il copia e incolla Quindi utilizzate Un altro Che non sia Che non contenga Le lettere accentate Se avete fatto L'update Dovrebbe funzionare Ma altrimenti Non è detto che funzioni Ok Quindi Ignoriamo il problema Utilizziamo un altro Che non abbia lettere accentate A questo punto Vi lascio Un quarto d'ora Per pensare Alle due soluzioni E per provare Ad abbozzarle Ok Tra Un quarto d'ora Ovviamente Io poi sono qua E vediamo Assieme La soluzione Allora Prima soluzione Utilizzo di un comparatore Come faccio a ordinare I miei elementi Prima in base Alla lunghezza Delle parole E poi successivamente In base All'ordine alfabetico Normale Quello che posso fare E prendere Il metodo Or Scusate La classe Arrays Allora Allora Per qualche motivo Non mi fa vedere Quello che scrivo Quello che scrivo Forse adesso si Sort Andiamo a mettere Il nostro array Parole E poi andiamo a mettere Un comparatore Che prende Che prende La parola 1 E la parola 2 E le va a ordinare In base a cosa deve ordinare Abbiamo detto Il primo punto di ordinamento È la lunghezza E poi successivamente In base All'ordine alfabetico Per cui Int Differenza Lunghezza Uguale A Più 1 Punto Length Meno P2 Punto Length Scusate Ho usato La freccia sbagliata If Diff Lunghezza È diversa Da 0 Return Diff Lunghezza Altrimenti Return P1 Punto Compare To P2 Questo ve l'ho scritto In maniera estesa In questo modo Abbiamo Prima un confronto In base alla lunghezza E poi Se le lunghezze Sono Uguali Allora faccio Un ulteriore confronto In base All'ordinamento Alfabetico Normale Questo lo posso anche fare Ma riprendiamo sostanzialmente quanto avevamo visto le volte scorse Andando a fare una race Punto Sort Parole Virgola Compareto Punto Comparing Int String Due punti Due punti Length Punto Then Comparing Allora fatemi Importare Tutto Così Compareto Punto Natural Ord Ok Quindi questa è la stessa cosa Però scritta Utilizzando I metodi Che permettono Di andare a generare Dei comparatori All'interno Dell'interfaccia Compareto A questo punto Se voglio avere la stampa Di Insomma di questo formato Posso andare a iterare sugli elementi E poi andare successivamente A stampare la lunghezza Quando cambia la lunghezza E successivamente andare a stampare l'elenco delle parole Per semplicità Vi stampo esclusivamente l'elenco delle parole Senza le lunghezze Dopo l'ordinamento Vedete che sono tutte ordinate Prima in base alla Scusate Eccoci qua Prima in base alla lunghezza Quindi vedete che qui ci sono tutta una serie di lettere Singole Quindi lunghezza 1 Poi ci sono quelle di lunghezza 2 Un certo numero Eccetera Altro approccio Invece di andare Semplicemente a ordinare Utilizzo una mappa Al cui interno Vado a mettere Quelli che sono I risultati Che mi interessano Vado a dichiarare Una mappa A cui corrisponde Come chiave Un intero E Come valore Non una singola parola Perché dato un intero Quindi una certa lunghezza Io posso avere tante parole con quella lunghezza Ma bensì Una lista Di stringhe Mappa Lunghezza Parole Allora Allora domanda Avevo detto che potevamo utilizzare le lambda su interfacce Con un solo metodo dichiarato Più i metodi statici Ma comparator ha anche equals come metodo Allora Il comparator non ha equals come metodo Quando voi andate a fare Adesso ve lo faccio direttamente qua Comparator 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 Punto Trovo equals Trovo equals Questo perché Eccolo qua Trovo equals Trovo equals perché Il risultato di compareint E' un oggetto comparator E in quanto oggetto Ha Eredita Tutti i metodi Che sono presenti All'interno della classe object Tuttavia Nell'interfaccia Comparator E' definito soltanto Un unico metodo Che è il metodo Compare Adesso dovreste riuscire a vedere Purtroppo ho lo schermo Che ogni tanto Non mi fa vedere Quindi cerco di Di aggiornarlo periodicamente Adesso dovreste riuscire a vedere Quello che vi ho evidenziato Quindi Per rispondere alla domanda specifica L'interfaccia Comparator Ha effettivamente Un unico metodo Quando creo Un oggetto comparator Quello comunque Essendo un oggetto Eredita tutti I metodi presenti Anche nella classe object Per cui Quello è il motivo Per cui vedete equals Ma vedete anche hash code Che sono metodi Che sono definiti Non ovviamente Nell'interfaccia comparator Ma bensì in object Quindi tornando alla nostra Quindi tornando alla nostra Mappa Mappa L'idea è di avere Una mappa La domanda Questo mandatrice di ordinamento Tiene conto anche delle differenze Tra le lettere Maiuscole e minuscole L'ordinamento Fatto con L'ordinamento naturale Quindi sostanzialmente Questo Tiene conto Di maiuscole e minuscole Quindi se Vado un attimo A eseguire di nuovo Il codice No in realtà Fatemi prima importare questo Poi rieseguo il codice Così vi rispondo Allora Importo map E poi importo list Ok in questo modo Vedo il codice corretto Ve lo rieseguo Vedete che nell'ultimo caso Businessman e Approaching Hanno entrambe la stessa lunghezza Ma le lettere maiuscole Nell'ordinamento standard Vengono prima di quelle minuscole Quindi la B maiuscola Viene prima della A minuscola Ok Volendo potete anche fare Un ordinamento Non in base Alle lettere maiuscole Ad esempio Facendo Convertendo In maiuscolo Minuscolo E poi facendo Il confronto Allora Qual è l'idea di questa mappa È che sostanzialmente Avrò come chiave La lunghezza E come valore Non una singola parola Ma bensì La lista Delle parole Che hanno quella lunghezza Quindi quello che io vado a fare Qua è un For String P in parole L uguale a P.lens If Mappa Lunghezza Punto Contains Key Lunghezza Parole Contains Key L In realtà Not Mappa Parole Allora Vedete che qua Mi dà un errore Perché Non ho creato Adesso qui Vi uso Una TreeMap Che è l'altra classe Che implementa L'interfaccia Map Vado a verificare Se all'interno Della mia mappa Esiste già La chiave Che corrisponde A quella lunghezza Se non esiste Allora Cosa faccio Devo creare Una nuova lista La metto Nella mappa E poi all'interno Della lista Aggiungo la parola Quindi avrò Una lista Di string Stessa Lunghezza Stessa Scusate Stessa lunghezza E' uguale a Mappalunghezza Parole Punto Get Della Lunghezza L Quindi a questo punto Mi ritrovo Con una lista Che è quella Che sta nella mappa Che io Ho aggiunto Quindi Mappalunghezza Parole Punto Put La lunghezza La lunghezza E poi La mia Lista Quindi la mappa O l'ho aggiunta io Perché non c'era Scusate la lista O l'ho aggiunta io Perché non c'era Oppure l'ho recuperata Dalla mappa E a questo punto Stessa Lunghezza Appunto Add La mia parola P Allora Sì In questo caso Ovviamente abbiamo già ordinato Ma Diciamo che se io vi commento Quello che sta sopra Ok A questo punto Cosa posso fare Posso andare Una volta che ho creato La mia struttura dati A stampare Le parole Di diversa lunghezza Quindi Ad esempio Forint I uguale a 0 I minore di 15 Più più I Stessa lunghezza E' uguale a Mappa Lunghezza Parole Punto Get Di Quindi System Out Print L'n Lunghezza I In realtà Partire da 0 Non ha molto senso Partiamo da 1 E poi If Stessa lunghezza E' uguale a nulla Vuol dire che non c'era nulla Di quella lunghezza Altrimenti Arrays.sort Stessa lunghezza Quindi ordino quelli con quella lunghezza Scusate Non si chiama Arrays ma si chiama Collections Nel caso delle collezioni E poi E poi For String P In Stessa Lunghezza System Out Print L'n Di P A questo punto Vedete che ho come risultato Dall'inizio lunghezza 1 Lunghezza 2 E in fondo Lunghezza 12 13 14 Nessuna parola Perché la lunghezza massima Era 11 A questo punto Alcune osservazioni Io qui vedete che ho utilizzato Un ciclo Per andare a definire Quella che è la chiave In realtà Io potrei In alternativa Per evitare di andare a stampare Delle lunghezze che non sono presenti Andare a scrivere For Int L In Mappa lunghezza parole Punto Key set Cioè vado a prendere Tutte le chiavi Cioè tutte le lunghezze Che io ho messo Dentro la mappa Vi faccio notare Che qui ho utilizzato Un int E non un integer Perché automaticamente C'è un unboxing E poi In realtà Posso andare a Copiare Quello che avevo prima Quindi in realtà Le due righe Sono uguali Quindi lunghezza L L Non mi serve più fare Il controllo di prima Perché Se ho l'elenco delle chiavi È ovvio che quella chiave È presente nella mappa E quindi E quindi Le ristampo Il risultato Giusto per essere Sicuri È esattamente Quello di prima Quindi Lunghezza 1 2 Perché evidentemente Ci sono anche un po' Di parole con lunghezza 0 Nell'andare A separare Quando ci sono Caratteri Uno di fianco all'altro Me li accorpa Quindi 1 2 Eccetera Ok E quindi Questo era Il codice di partenza Che ci permetteva Di andare a creare La mappa Io ho scelto Come Tipo di classe Che implementa La mappa Trimap Qual è il vantaggio Di utilizzare Trimap È che Trimap Mantiene Le proprie chiavi Ordinate Quindi Le nostre lunghezze Sono ordinate Da 0 A 1 2 3 Eccetera Questo Non è Vero Se invece Di utilizzare Una trimap O in realtà Potrebbe non essere Vero Se invece Di utilizzare Una trimap Io utilizzassi Una Hashmap Nel caso Specifico Visto che Il codice Utilizzato Per la Hashmap È l'intero Stesso Siamo Fortunati Però In realtà Non è garantito Ok Quindi In generale Quando abbiamo bisogno Di avere Gli elementi Ordinati Conviene Utilizzare Una trimap Piuttosto Che una Hashmap Quindi Tornando indietro In questo caso Volendo avere Tutti I nostri Elementi Ordinati In base Alla chiave Quello che ci conviene Fare È mantenere Una trimap Lo split Iniziale È quello Che abbiamo Qua In realtà Facendo Così Per aver eliminato Quelli di lunghezza Zero Perché in realtà Non ne ho Solo una Quindi Il risultato È questo Allora Quello che dicevo Su trimap È Questo Quando io Utilizzo Una trimap Le funzionalità Di Put Contentskey E get Sono esattamente Le stesse Nel senso che Put mi mette La coppia Contentskey Mi dice Se c'è la chiave E get Mi restituisce Il valore La differenza Fondamentale È che Quando vado A prendere L'insieme Delle chiavi Se ho Una trimap Le chiavi Dentro Quell'insieme Sono ordinate E quindi Quando vado A stamparle Me le trovo 0, 1, 2 E 3 Se utilizzassi Un hash map Non ho Necessariamente Questa garanzia E quindi È possibile Che l'ordine Delle chiavi Non sia Quello giusto Per cui In generale Tutte le volte Che io Ho la necessità Di avere Delle Mappe I cui Elementi Sono ordinati Devo utilizzare Una trimap Piuttosto Che una Hesh map L'ordinamento Non è alfabetico Nel senso che Queste chiavi Sono intere L'ordinamento Naturale Delle chiavi Quindi in questo caso I nostri Le nostre chiavi Della mappa Sono degli interi E quindi vengono ordinati In base all'ordinamento Degli interi Se fossero state Come chiavi Delle stringhe Avrei avuto Per l'appunto L'ordinamento Alfabetico Allora Collections.sort È sostanzialmente L'equivalente Di arrays.sort Ma accetta Come parametro Una lista E poi In questo caso Non avendo specificato Nulla Usa l'ordinamento Naturale Quindi qui Usa l'ordinamento Tra le stringhe In alternativa Avrei potuto mettere Un comparatore Esattamente come Il metodo Sort Di arrays Ora Ovviamente Questa operazione Di generazione Di generazione Della mappa Che abbiamo scritto È decisamente Più complicato Di quello Che Abbiamo fatto Prima Andando semplicemente A Fare Un ordinamento Il vantaggio Qual è? È che Una volta che io L'ordinamento Gli elementi Sono tutti Dentro la mia lista Quindi Se voglio andare A prendere Ad esempio Tutte le parole Di lunghezza 10 Con l'array ordinato Devo andare A scorrere L'array Finché trovo Le parole Con lunghezza 10 Mentre invece Se ho la mappa Se voglio le parole Con lunghezza 10 Semplicemente System Out Print Ln Mappa Lunghezza Parole Punto Get 10 Il risultato È Che Automaticamente Ho Tutte le parole Con lunghezza 10 Vero Quattro volte La parola Watchtower A questo punto Se io volessi Evitare I duplicati Come faccio? Beh Esattamente Uso un set Quindi Perfetto Direi che ci siamo capiti Quindi Tornando qui Volendo evitare I duplicati Mappa Mappa Chiamiamola Node Up Così è più E più E più Sintetico Invece di avere Una lista Qui Posso mettere Un set Di string Set È di nuovo Un'interfaccia Che non avevo importato Quindi la devo importare In modo che mi sia Tutto corretto E a questo punto Posso scrivere Il codice Di prima Quello che posso fare Vi riprendo Il codice Di prima È non mettere Una lista Ma bensì Mettere Un set A questo punto Io potrei mettere Un set Oppure potrei mettere Quello che è Un Triset Il triset È Un set Che è Ordinato Quindi Gli elementi Che io vado ad aggiungere Nel set Automaticamente Restano ordinati Quindi Le parole che io vado ad aggiungere Automaticamente Restano Ordinate E quindi Quando devo andare A stampare Tutto Non ho la necessità Di fare Un Sort Successivo Attenzione Il triset Funziona Con elementi unici Quindi non mi mantiene Ordinato qualcosa Con i duplicati Quindi Mappa Nodup Qui ho un set Non devo più fare Il sorte Quindi Ho il mio risultato Quindi se stampo Di nuovo tutto Ottengo Di insolito Le lunghezze Con i valori Vedete che sono Nuovamente Ordinati Allora Giusta osservazione Io qui Vi ho messo Set In realtà Avessi voluto Garantire L'ordinamento Invece di set Avrei potuto Mettere Sorted set Funziona anche set Perché in realtà Sorted set È un sotto insieme Quindi Sorted set Lo importo È l'interfaccia Degli insiemi Che sono in più Ordinati Quindi a questo punto Posso andare a mettere Sorted set Qui E anche Qui Anche se non è necessario A questo punto Questa dichiarazione Mi dice che La mappa Farà corrispondere Dei valori Interi A degli insiemi Ordinati A questo punto Nel 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 fremo Delle collezioni Esiste un'unica Classe che Implementa L'interfaccia Sorted set Che è per l'appunto Trisette E quindi Quella è una scelta Diciamo Tra virgolette Obbligata Però mi garantisce Che Qualunque cosa Io metta lì dentro Gli elementi Di quelli insieme Restino ordinati A questo punto Se io vado a fare La stessa operazione Di prima Quindi vado a prendere Dalla nuova mappa Senza i duplicati Le parole Con lunghezza 10 Il risultato È Semplicemente Watchtower E vedete che Di nuovo Non ci sono In questo caso Più i duplicati Quindi Sorted set Sostanzialmente È l'interfaccia Che mi Che deve essere Implementata Dalle classi Che garantiscono Che gli elementi Al loro interno Oltre a non avere Duplicati In quanto Set Sono pure Ordinati Oltre a non avere Di nuovo Oltre a non avere Di nuovo Oltre a non avere Ok Questi sono i metodi Diciamo Base Poi Se Vogliamo andare a vedere All'interno Della Del package Java Utile L'interfaccia Map Vediamo che ci sono Una serie di altre funzioni Molto più complicate Per cui Ho una Una serie di metodi Che mi permettono Di andare ad operare Sugli elementi Presenti in una mappa Ad esempio Compute Compute Absent Compute Present Che mi permettono Di fare Le operazioni Che abbiamo fatto Prima In maniera Un pochettino Più compatta Ok Di queste Parleremo poi Nella prossima Lezione Facendo qualche Approfondimento Ulteriore A questo punto Se non ci sono Domande O chiarimenti Direi che La lezione di oggi Possiamo anche Considerarla Come conclusa Ok Perfetto Quindi Allora Ci sono Alcune domande Quindi Allora Prima domanda Quindi Sorted7 Metti in ordine Alphabetico Sì Sorted7 È un insieme Che mantiene Gli elementi Ordinati Domanda Faccio il commit Sì Appena Chiudiamo la lezione Vi faccio il commit Perché quando faccio Collection Non viene compilato Non viene compilato Perché Per fare un ordinamento Io ho bisogno di poter accedere agli elementi In base alla loro posizione In modo da poterli scambiare Quando è necessario Su un set Ma anche su una collezione Io non ho un accesso tramite indice L'unica interfaccia che mi dà un accesso tramite indice è list Per cui Il metodo sort Di collections Che è quello che abbiamo utilizzato qua sopra Si aspetta come parametro una lista Quindi non gli posso passare una collezione Non gli posso passare un set Un sorted7 Una coda Devo per forza passare una lista Tutti gli altri tipi di strutture dati Non possono essere ordinati Tramite il metodo sort Altra domanda Si possono definire nuovi criteri di ordinamento Per trimap o sorted set Sicuramente Io qui Non l'ho fatto Però quando vado a creare Ad esempio il triset Ma anche per la trimap Come parametro del costruttore Posso passare Un comparatore A questo punto L'ordinamento All'interno del set Della mappa Verrà fatto In base a Quel comparatore Invece dell'ordinamento naturale Per cui Ad esempio nel triset Potrei mettere Visto che prima parlavamo di Maiuscole e minuscole Potrei mettere Un comparatore Che mi fa il confronto Ignorando le differenze Tra maiuscole e minuscole Allora Domanda Perché Sorte È un metodo Statico di collection E non un metodo Statico di list Bella domanda Le ragioni Sono Per lo più Storiche E perché Le due classi Arrays e collections Chi ha progettato il linguaggio Ha voluto metterle In maniera assolutamente analoga In realtà Se noi andiamo a vedere L'interfaccia List Adesso Ve la vado a prendere qua E' stato definito Ma questo a partire Da Java 8 Un metodo Che si chiama Sort Che permette Di fare l'ordinamento Attenzione Che questo metodo Pretende Un comparatore E quindi Tornando Al nostro Ordinamento Che abbiamo fatto Scusatemi Qua Io potrei fare Stessa Lunghezza Punto Sort E qui Dovi mettere Comparator Punto Natural All order Perché devo Per forza Mettere un comparatore Ok Quindi Non è un metodo Statico Perché il metodo Statico E' definito Soltanto in collection Diciamo per ragioni Storiche Ma esiste Anche un metodo Di default Che io posso Chiamare Su una collezione Per andare a fare L'ordinamento Ok Allora Spero con questo Di aver concluso Ed risposto A tutti I dubbi Residui Ovviamente Se poi avete Altri dubbi Spero con questo E Spero con questo